eri eccoci controller pronto pronti all'azione ok ok cosa sta da fare? tommet non è vero come numero uno ok numero uno non so non so siamo sui un altro è 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 un altro spieghando E' un moscotto Grazie, Inesan Lìo! Mi raccoglie! Non c'è nulla Allora Tu è dodge Tu è punch Tu è kick Uuuh Sosso fccan Cosa? Fccan Aia Aia Aha Cosa? Corro coro via Puttana Ok Criamo Bua che perri C'è 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 ho trovato una montagna e ho detto che andiamo a provare è davvero un giusto Ora... ...degasco puoi agire con la sua proposta. Ma prima di farlo in un'altra parte, un'altra parte, un'altra parte, un'altra parte. Un'altra parte, un'altra parte. C'è ancora piccola. Ecco, c'è un pozzo. Che senza, bro. Nakamura, cosa hai fatto? Mi hai chanata. Si, hai chanata. Si, hai chanata. Si, hai chanata. I'm a bambi. I'm so happy to be the children. I love my children. Ok, so I'm a bambi. Then I'll be back. I'll be back again. I really like kids. Hmmmm. Hmmmm. I don't know anything about it. I don't know anything about it. Zadnji sem kupvote. Ok, imam kipse. Nekih imam. I don't know anything about it. Yep. Yep. Ne vem oče ni šla debatam, ker sem samo prvo rojila a kid in... ...mmmmm. Blosto spišeš. Ehm... Ma, kjev Pirata de la strada? Nekih imam. Nekih imam. Nekih imam. China shop. No, China shop. Tlesem... Ne. Ne. Pohrede qua. Zadnji. Kaj je to dedek mraz? Ma smo... Tak, ok, sem smo dva tegna do... Desetni do Božiča. Jednji. Kaj je dedek mraz? Kje je uniki cepic? Kje je mapa? Zakaj ne se nespovni nič? Tle je barber shop. Aaaa... Aaaa... Qu'è un'y喜歡? Se è il TRIF STORE. Qu'è un'antique shop? Qu'è qui? Qu'è Fortun Teller? Qu'è il potesse ediletto. Ou bisogna avere un'yelta? O direttore dei nostri spettatori. non so necce che senti l'amore questo è il presidente questo è l'attività adesso c'è un gruppo di movi allah che ti movi è l'attività è l'attività è l'attività è l'attività c'è barba, ma c'è la miseria ma c'è una trucchia che palle il 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 Sì, non è vero. I ammora I ammora I ammora I ammora I ammora Vai Quanta maquillosi ta I ammora Mox To Non mi piace, non mi piace. Questo è stato. Si, grazie. È stato da un'appartista di Okajama. È un'appartista di Dahan. È un'appartista di Dahan. Non è vero. Voi, grazie. Sì, è stato un progetto che ci sono spettati a uspettati. Non ci sono, ma ci sono solo un valore. Grazie a tutti. 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 Yeah, ma... a tutti. a tutti. ... C'è sempre una norma di ogni giorno, per favorevole. Sì. Se la norma di raggiungeremo, farò fare un valore. Entendete. Allora, grazie. Grazie a te. Sì, non è vero. Voi che vedi, vedi che vedi. Vedi che vedi. Sì, non lo so. C'è una cassetta. Toschino robo. Qu'è un cuppi to say? C'è un cuppi to say. Un ticket. Qu'è un 9.00? Qu'è un 9.00? Un 9.00? Un 9.00? Un 8.00? Un 9.00? Un 8.00? Un 2.004? Un 10.00? Un 8.00? Un 8.00? Un 9.00? Un 10.00. Ahahahah Ahahahah 50? 5th prize Come andiamo? Il nostro canale è molto bello! Adesso necchino ora Tails Tales. Sì, non lo so, non lo so, non lo so. ... 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 Sì sì. Sì. Grazie. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a presto. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Noi, Ryo, non è vero! Non lo so, non lo so, non lo so, non lo so. Si, non lo so, non lo so, non lo so. Ma, pochi homeless! Ok, ma no, 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 no. Cosa, cosa, cosa. Cosa? Cosa significa? Cosa, cosa, cosa. Cosa significa? tenants, non lo so, non lo so. Non lo so, non lo so. Cosa significa minha nucapo?". Jimo, TYLA! Sta la GUIRA! Ribici, Ribici è un po' di spettacolo. Sono bene. Mi sembra di parlare. Mi sento, mi sono chiuso di parlare, ma questo è un giorno che non è vero. Ma la domanda da te senti, e mi senti? Entenduto. un'amore 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 Questo è un painting. Ah, te l'ho ponte. Ah, ti ho detto, in un po' vittore? Ho il tempo, mi sono avuto. Ah, ti ho detto. E' un po' che non mi ha detto. Ah, ti ho detto. Ah, mi ha detto, mi ha detto che sono avuto il tutto il tutto il tutto il tutto il tutto per il tutto. Ma non è il tutto il tutto. Non è che il tutto per il tutto. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. C'è ne? C'è ne? C'è ne? C'è ne? Eh... Chè ne? V健, dàpht, chè ne? Tiens. Sì, c'era dàpht, c'era dàpht. Sì, c'era dàpht. Eh, io ci provo. Bu? Spomno se c'è il Dai Show e... Tom è tutti show C'è te le sade c'è Slucajno Oh, Kimi? Scusate, chintaijin Ma il nome è Hazuki Chintaijin Non c'è nessuno Ma non è possibile Allora Natch Allora Mambo Un'altra Apparantemente L'amerellamente 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 il ha aiutato Ok, ma stiamo stavolando? Ah-ha! Ok, quick time event is there! Abdo it seems to me! Tissue little shit! Come touch it over! Nani? Come touch it over! The bike? The chicken race! What do you know? You know what? At this point is fine! If you let me go, I will give you the chance to this person! You will give me some of the money! If you left the world, in the beginning! Go ahead! Che mochi fatti? E' un punto che non sai come faccio. Ne puoi rimanere. La puoi rimanere su! Il plato! Che viola che blano! Che mia rascita! Mi ha preso di valore! Chissà! Xerovi la mia c компa! che si è finito? tu è tutto per te donar? uno è morto, morio? i polizai stavi pendri che ha chiamato un motocicletto Tu di pro? Necdo ne creerai stupendo foda-se poch I mean L'esgott, ne? Dammi esgott autobus, take me home country bus, take me home oh, lega gorta, what's going on bro what's going on bro Cosa? Cosa? Ah, dunque varia di un'azienda. Cosa? Cosa? Siamo in casa. Sì, 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 sì. ... ... ... ... ... ... Sì 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 E' un'altra cosa che mi ha lasciato un artista di tecondo. E' un'altra cosa che mi ha lasciato un artista di tecondo. Sì. 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 ... ... ... Non posso dire come c'è un cattore? Non è difficile da fare questo tipo di legato. Come si è stato l'amore. Non è stato l'amore. Segui come questo. 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 Perchè? Ah, c'è due scroller, abbiamo chiesto. Cassette. Cassette. Vecchie mani, un gaccio. A livello. Un freddo. Ma non lo so. Un freddo. Dun lacroix. Un freddo. non c'è nulla non c'è nulla no no ok 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 it's the first time i'm playing it and I'm really liking it except for the graphics it's really interactive and yeah, we were saying with a friend earlier that it was a Dreamcast like who even knows what the Dreamcast is anymore Kaino Yellow Jacket Ichiro yeah 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 yeah, wait.. yeah... wait... see... yeah... 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 Just a second... It's you, I presume it's you, Johnny Fraser? Let me check. Thank you for following. Oh, and the host. Well, I'm gonna take a break now though. Yeah, I don't remember my notifications and I put the... I didn't put them on this scene, so... No, I shouldn't have slept, I shouldn't have slept. No, it's fine. Most probably, yes. Then for the third one, I'll see. My new job starts today. Okay, investigate. Uh, I just, I'm researching the Mad Angels gang. No, no. I knew I should have saved him. And ended there. Yep, forklifts. Is this a race? Good morning, everyone. JEEEES! I wanted to save. I knew I should have saved. I knew I should have saved. You ready? I knew I should have saved. no come on ok i lost wait is it the lap of the whole harbor oh my god this is torture what ok ok i got the hang of it now so we have to take white terms not again ok there is a barrel behind the corner i remember that those hitboxes though i must get for the oh yeah boy oh yeah ok i got the hang of it it's ok maybe i can finish second oh come on now what finish okay i'm not sure i'm not sure i'm not sure i'm not sure that's i'm not sure i'm not sure i'm not sure i'm not sure Grazie a tutti. 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 Do you need a lot of money in this game? It depends on how you wanna finish it. Let me fix this. Yeah, yeah, I know. Oh, but I'm gonna make the lower line, then we're gonna stack them one on the other. Oh, hello. Oh, hello, Goro. That's Goro. What did you get? Did you make that amount? Oh, yeah. This is the only box I put straight in all the line. Cool. It is the second one, Rio? So, I see a Russian move, then. What? 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 I'm coming into V2. Yes, I can put one more there. I went wide. Okay. Before your channel, let me finish this part. Eh, beep. Yes. Why? Why? Yeah, it's one of those games where you don't need to find everything, but you want to. Because it has tiny hidden stuff and... Like, I'm mostly a completionist, so... Yeah. It triggers me a lot if I don't do everything possible. I know it's not possible. I know I'm gonna miss a... Oh, dog. C***! Yeah, that's Italian for asshole. Cool. I mean, I'm not that into the game. I got it with a monthly bundle from Humble Bundle. You can subscribe below to monthly bundles if you wish. Oh, my God. What have I done? I can't drop the box now. Because they're sideways. Are you kidding me? Are you kidding me? Fine for me. I'm probably gonna go ahead with... Two! Oh, God. Dragon Ball Kakarot. I have that one. I'm playing that one as well, currently. Man, those hitboxes are triggering me hard. What? Thank you very much. How much am I? Eight. Otto. Otto, madre. no so what's the quarter for the lunch break or the whole day hey my lunch it's what the hell okay oh oh do we fight or do we quick then ai a ui 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 o 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